Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni State attenti, mi credete che proprio ora i gesuiti controllano il congresso? E significa che in ogni momento si può scrivere una legge per imporre la legge dominicale. Quando ho visto questa notizia, ero scioccato. Sapete chi è il capellano della Camera dei Rappresentanti? Chi c'è dall'altra parte, nel congresso? Un gesuita. Riflettete. Al congresso si scrivono le leggi. Ed entrambi i capellani, la Camera dei Rappresentanti e del Senato, i due capellani rappresentano le due chiese nel gran conflitto. La Chiesa di Dio o la prostituta. Nella parte del Senato avete un presunto avventista del settimo giorno. Nella parte della Camera dei Rappresentanti, un gesuita della Chiesa Cattolica. Come guide spirituali della Camera e del congresso. È un caso? No. 15 giugno 2017. Titolo. Un cappellano gesuita si prende cura del greggio diviso del congresso. Discutendo la posizione come cappellano della Camera dei Rappresentanti americana, il gesuita Patrick J. Conroy dice I gesuiti non cercavano questo lavoro, non cercavano questa posizione. Ma è una cosa naturale. È nel nostro DNA. Lui spiega che una volta i gesuiti erano i direttori spirituali e, a volte, anche consiglieri di principi e re in Europa. Quindi non è un ruolo inusuale. La sorella White ne aveva parlato? Gran conflitto a pagina 2-3-5. Sotto vari travestimenti, i gesuiti si fanno strada negli uffici di Stato, salgono come consiglieri dei re e modificano le regole delle nazioni. Al congresso si scrivono le leggi e il gesuita ha detto è nel nostro DNA. La sorella White era ispirata? Lui dice Il nostro comportamento ci porta ad impegnarci nel mondo in modo che noi possiamo influenzare per il bene della maggior parte del popolo. Quindi questo gesuita influenza il congresso. arriva la tempesta, amici. E ricordate che nel gennaio del 2017 è stato detto che un terzo del congresso è cattolico romano. Quanti cattolici siedono nella Corte Suprema? Chi ha fatto diventare cappellano questo gesuita? John Boehner e Nancy Pelosi Perché è così importante? Lui dice L'altro semplice motivo è che il portavoce della Camera di quel periodo John Boehner cercava un gesuita per il posto di cappellano. Nel 1775 questo sarebbe accaduto? L'America avrebbe chiesto un gesuita come guida spirituale delle persone del congresso? No, amici. L'America è cambiata. Arriva la tempesta. C'è il temporale. Il vento sale ma noi dormiamo in una sicurezza carnale. La casa non è sulla roccia. Dice Boehner discusse con la guida della minoranza Nancy Pelosi una cattolica. Quindi lo hanno portato Boehner e Nancy Pelosi. Domanda Loro avrebbero potuto invitare qualsiasi altra persona? ma hanno cercato un gesuita. Joe Boehner è portavoce della Camera. Chi ha invitato Papa Francesco? Time Magazine titolo Boehner e Pelosi invitano il Papa al congresso. Quando il Papa venne e fece le sue cose chi si è dimesso? il 23 settembre 2015 venne il Papa e il giorno dopo Boehner in lacrime si dimise il suo lavoro era finito. una cosa mai vista che il Papa venisse in America e parlasse alla riunione del congresso e ora hanno voluto un gesuita per continuare l'opera. è così ed ogni volta che lui vede il Papa piange non dispiacetevi per lui lui deve pentirsi lacrime bugiarde e traditrici contro Dio e la Costituzione americana. sentite cosa dice Nancy Pelosi quando ha portato il Papa desideriamo ricevere il Papa nella capitale e desideriamo sentire la sua chiamata per risvegliare i nostri valori quali valori vogliono seguire l'uomo la sabbia per proteggere i poveri i bisognosi e per promuovere la pace. Papa Francesco dice che ogni nazione deve avere cura dei poveri. Amici la domenica e Nancy Pelosi dice che l'enciclica del Papa si basa sull'adorazione. L'ultima frase in rosso loro hanno un'agenda amici e dall'altra parte del congresso c'è il cappellano Barry Black. Chi è Barry Black? È un presunto avventista del settimo giorno. Come può essere che da una parte del congresso ci sia un gesuita cattolico e un presunto avventista del settimo giorno dall'altra parte? Il gran conflitto davanti ai nostri occhi. Ma quali sono le predicazioni e gli insegnamenti di Barry Black? Lui è per il movimento ecumenico e Barry Black è stato trovato anche a parlare in lingue. Il semplice fatto che Barry Black parla in lingue mostra di far parte della Chiesa Cattolica perché il parlare in lingue non comprensibili come lo spagnolo il francese eccetera quelle non comprensibili non bibliche proviene dal movimento carismatico e il movimento carismatico è un seme piantato dai gesuiti. 5 giugno 2017 titolo Il Papa vede il rinnovamento carismatico come punto di forza nell'ecumenismo poi il Papa dice che se parli in lingue non comprensibili non preoccuparti è biblico lo dice qui manca l'audio ma potete leggere le parole il Papa dice a qualcuno non piace come pregate ma è vero che è pienamente in linea con la tradizione biblica perché lo ha detto perché punta sui carismatici e questo è Barry Black che parla in lingue non comprensibili e lo fa di continuo volevo farvelo sentire ma no è una cosa demoniaca è un demone si può impossessare di voi noi non vogliamo questo no lui si deve pentire altrimenti si perderà poi c'è Mike Pence che ha studiato dai gesuiti il cattolicesimo ha lasciato un marchio indelebile sullo spirito americano dice Mike Pence l'ultima frase il presidente Donald Trump è un alleato dei cattolici americani queste parole uniscono la chiesa con lo stato amici arriva la tempesta la mia casa è fondata sulla roccia la tua casa è fondata sulla roccia sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni l'ultima frase Grazie a tutti.